Appreso il via in Piazza Santo Ronzo a Lecce, Scuola Futura Campus, una tre giorni di formazione sulla didattica innovativa di confronto sulle buone pratiche di riflessione con le comunità scolastiche, sui temi e sulle sfide del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in cui saranno coinvolti studentesse, studenti, docenti, dirigenti e personale scolastico. L'iniziativa si articola in laboratori formativi dedicati a docenti e dirigenti scolastici, sui processi di insegnamento e apprendimento e a studenti delle scuole del primo e del secondo ciclo, provenienti da tutta Italia, per immaginare, costruire e confrontarsi sulle sfide della scuola del futuro. Sono previsti inoltre 60 workshop di formazione per lo sviluppo di modelli innovativi di didattica digitale per docenti e dirigenti. Lunedì 4 dicembre le attività si concluderanno con la condivisione delle esperienze dei laboratori alla presenza del Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.